Al via domani la ventesima edizione di Ristore Expo a Erba, la mostra che da anni rappresenta un appuntamento fisso per tutto il settore enogastronomico. Fino a mercoledì 15 febbraio sono attesi oltre 20.000 visitatori per 200 espositori, in rappresentanza di oltre 350 marchi e di 300 etichette di vino. Durante la rassegna concorsi, dimostrazioni e iniziative per creare occasioni di formazione e crescita professionale per gli operatori attraverso il confronto diretto con alcuni opinion leader del settore. Infine, chef famosi come ospiti e coinvolgimento diretto dei giovani, cui verrà concesso di sperimentare sul campo le competenze acquisite in aula. Un salone denso di profumi e sapori che non manca di favorire la crescita del territorio e di promuovere le eccellenze agroalimentari locali e nazionali. Ristore Expo sceglie quest'anno l'enogastronomia ancestrale come tema portante. Ancestrale è riferito ai profumi, agli odori, ai sapori e alle sensazioni che fanno parte della nostra storia e che talvolta non riusciamo ad individuare, spiega Giovanni Ciceri, presidente di Lario Fiere, ideatore e curatore della mostra. Grazie